Eccellenze, ringrazio soprattutto gli istanze che hanno presentato questa istanza che mostra sensibilità e civiltà per i nostri amici Quattro Zampe. Io parlo a nome proprio personale. Sappiamo benissimo quanto questi animali, cani e gatti possono soffrire di stress transitorio, situazioni proprio drammatiche, prevedibili. Quindi accogliere questa istanza a mio avviso significa proprio recare disturbo a questi animali che tengono compagnia a tutti noi, anche agli anziani e ai bambini. Molti fanno anche pet therapy, quindi bisogna considerare che questi animali non meritano appunto questo stress. Ci sono momenti di paure, di stress, di agitazioni, attacchi di panico dovuto appunto al rumore e ai suoni acuti e rimbombanti. possono mostrare aggressività, possono isolarsi, cercano aiuto. Quindi alla luce di tutto di quello che ho detto io accolgo favorevolmente questa istanza. Mi dispiace che non ci sia stata questa sensibilità. Dico solo una cosa, è possibile magari collocare dei pannelli anti rimbombo, anti rumore in quelle zone in modo tale invece da fare queste manifestazioni. Ecco, grazie.